Un ricordo, l'ultimo ricordo. Il ricordo di Franca è un ricordo che ci costituisce. Noi siamo tutti un po' Franca Valeri, quello che lei ha fatto ha cambiato il nostro modo di essere e di pensare. Ci ha migliorati, le dobbiamo molto perché un popolo, dei cittadini, in grado di ridere di se stessi e di fare dell'umorismo sulla propria situazione diventa un popolo più consapevole, più maturo, meno violento e inizia quella che Franca chiamò la rivoluzione degli educati con lei. Le dobbiamo veramente tanto. Siamo qui per onorarla. Devo tornare dentro. Grazie.